Ai Giardini Grandi, amministratori alpini di Adria hanno festeggiato il sessantesimo compleanno del sodalizio adriese, siglando un accordo per la gestione dell'area pubblica. Un momento importante tra l'amministrazione comunale e l'Associazione Nazionale Alpini Sessione di Padova Gruppo di Adria, che hanno annunciato l'affidamento incomodato d'uso dei Giardini Grandi da parte del Comune e la locale Sessione degli Alpini. Questo è un nuovo inizio, sono le parole dell'assessore all'Associazionismo e Volontariato Matteo Stoppa. Finalmente riconsegniamo agli alpini di Adria, con atto ufficiale, la loro casa di Via Grandi, che presto, grazie all'impegno di questo straordinario gruppo di volontari, sarà resa più bella e funzionale, oltre che arricchita da un parco completamente rivisto a totale disposizione della cittadinanza. Anche questo è un ottimo esempio dello spirito di collaborazione tra istituzione pubblica e cittadini attivi, in questo caso organizzati in associazione. È stato un percorso lungo, partito con l'azione dell'assessore Tosato, che è terminato con la delibera di giunta appena pubblicata, che arriva al termine di un periodo difficile. Deve ancora una volta agli alpini, che si sono messi a servizio della città, un grande ringraziamento. Ora, grazie al loro consistente impegno finanziario, potranno per un paio di decenni programmare la loro attività associativa. Attendiamo con gioia di ritrovarci insieme per l'inaugurazione dei lavori ultimati. Un grazie particolare al capogruppo dei volontari Matteo Sacchetto. Un'area pubblica di 6.000 m2, situata tra le vie Achille Grandi e Torres, dove è collogato un modulo prefabbricato, il monumento dedicato agli alpini, e dove 600 m2 saranno destinati a zone di addestramento cani. Per il futuro saranno collegate nuove attrezzature ludiche, una parte delle quali sarà adattata anche ai portatori di handicap, per favorire l'inclusione sociale delle giovani generazioni. «Abbiamo fatto una manifestazione di interesse per assegnare il comodato d'uso dei giardini grandi», spiega il sindaco Barbierato, alla quale ha partecipato solo l'ANA di Adria, un'associazione sempre pronta a mettersi a disposizione con i propri volontari per il bene della città e sempre attenta ai protocolli da seguire nelle cerimonie ufficiali.